Gli auguri e complimenti per l'incarico era cercare di capire cosa potesse fare la provincia per il nostro territorio. Naturalmente la provincia può fare molto, ha potuto fare molto. Ricordo per esempio fra gli interventi della provincia, la rotatoria, quello che veniva chiamato il ricrocio della morte. Vi ricordate strada di Romani con questa direttrice che poi arrivava fin qua. E anche quello che fu un intervento della provincia fondamentale per la sicurezza dei residenti del territorio, ma anche di tanti turisti che sbarcavano dalle navi e che attraversavano l'incrocio. Altrettanto questo ci è sembrato uno di quegli interventi importanti per la sicurezza stradale soprattutto ma anche per rendere moderna le abilità che necessita di essere sempre adeguata alle esigenze di oggi.